La Polizia di Stato dell'Aquila ha eseguito sei misure cautelari in relazione ad una violenta rapina ai danni di tre ospiti di una struttura sociosanitaria residenziale della frazione di Bazzano nel comune dell'Aquila destinata ad ospitare pazienti con disturbi psichiatrici in carico al centro di salute mentale. Approfittando di una fascia oraria in cui gli operatori sanitari erano assenti, le sei persone, tre maggiorenni e tre minorenni, si sono introdotte di notte nell'appartamento minacciando le vittime con una spranga di ferro. Si sono appropriate di denaro, 1481 euro in contanti, tabacchi, sei confezioni di psicofarmaci, documenti e due carte di credito, danneggiando anche la struttura. I fatti risalgono al 23 gennaio scorso. Le indagini condotte dalla squadra mobile dell'Aquila e coordinate dalla procura ordinaria della Repubblica dell'Aquila e dalla procura presso il Tribunale per i minorenni hanno portato all'arresto di un 27enne e all'applicazione di arresti domiciliari per due 19enni, mentre i tre minori sono stati collocati in comunità. L'intervento coordinato della squadra mobile ha consentito di ricostruire l'intera vicenda e di offrire pronta tutela alle persone offese.